E' la Calabria la meta preferita quest'inverno dalle famiglie italiane. Un occhio ai paesaggi ed uno al portafoglio, questi i principali motivi che hanno spinto e continuano a spingere turisti e non sulle nostre montagne. Ad indicarlo è uno studio di TripAdvisor.it, il portale web dedicato ai viaggi, secondo cui il costo medio di una camera in casa vacanza in affitto per una settimana nella nostra regione è pari a 204 euro, più care Sardegna, Sicilia e Campania. Tra i luoghi più gettonati della nostra regione c'è Camiliatello Silano, il più esteso altopiano d'Europa nel cuore della Sila, dove si scie e ci si sposta con le slitte. In media 17 giorni sul Pollino, in qualunque altro luogo invernale in Calabria, hanno lo stesso costo di una settimana di vacanza nei luoghi presenti nell'elenco dello stesso portale web. Una buona opportunità dunque per rilanciare il turismo calabrese, che venendo incontro a chi non può più spendere tanto per regalarsi qualche giorno di relax, punta a superare in termini di presenze, le più blasonate mete vacanziere non solo in estate ma anche in inverno.